Ha senso dedicare al tema della liturgia un tempo privilegiato per rimettere al centro il mistero eucaristico e trovare forme nuove che possono attrarre e favorire l'esperienza di fede. All'inizio della celebrazione eucaristica in cattedrale il Cardinale Matteo Maria Zupi, presidente della CEI, ha salutato e ringraziato tutti i convegnisti presenti. La sfida è chiara. Dovremmo rendere quello che era un precetto, renderlo un desiderio, però oggi fa bene, anche quando magari pensiamo che è meglio starse a casa, la domenica ricordarci del Signore, ringraziare il Signore, affidarci al Signore e incontrarlo insieme ai fratelli ci fa vivere bene tutti i giorni. Nell'Omelia è emersa la figura di San Giovanni Battista, il precursore disponibile al martirio per testimoniare l'amore di Cristo. Oggi il dono totale di sé non si comprende più. Perché c'è poco amore, il problema è quello. E non è che perché uno dice, chi me lo fa fare? Infatti proprio quello è il problema, che non ce lo fa fare nessuno. O pensiamo che possiamo non farlo. Ma il problema non è il sacrificio. Il sacrificio in sé, senza l'amore, non serve a niente. Anzi, l'Apostolo Paolo ci ammonisce. Io posso fare anche dei sacrifici terribili, ma se non ho l'amore sono inutili. Ecco, ma il problema non è non fare i sacrifici, il problema è voler bene. In un tempo di guerra, proseguito il Cardinal Zupi, occorre superare la tentazione dell'individualismo e credere e testimoniare la verità. Che idea si è fatta di questo conflitto? Che cosa ha potuto constatare? Che purtroppo la violenza e la sofferenza è terribile. Che le responsabilità devono essere molto chiare, ricordarcele e allo stesso tempo cercare di risolvere, di trovare le vie di soluzione. Credo che ci sia una volontà di questo. Bisogna però aiutare a ricuscire quello che la violenza ha lacerato.